Non so quale sia la tua USB Ti sto filmando Ah ok, sto dicendo come fai in questa posizione È la mascherina in testa Perché è la mascherina appesa? Non sopra dove metterla Non è così, si igienizza Non proprio Ma fa qualcosa di divertente, si è noioso Wow No Gino Gino non andare con lui Gino 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 tutto bene? Gino sei sicuro di voler stare con lui? Tutto bene Gino non fidarti No Gino No aspetta eh, non puoi fare quello che pensi No Gino, Gino No Dov'è Gino? Ogni tanto la luna la piazzo così D'inverno Sì ma chiaramente a lui non sta piacendo Che devo lavorare Gino Eh, è colpa di Gino se non lavori Sì, guarda, se non riesco a trattare l'esame Gino Ti vengo a prendere Ti faccio un Che cosa posso farci con te? Mmm Mmm Una sciarpina No Non so se voglio mettere su YouTube il mio attaccamento morboso nei coppi di peluche Però ho già messo il bagnetto quindi Sono illusivo Adale piace essere filmato E si vede Ok Dovevo dormire Mi hai già filmato abbastanza Ma ogni settimana è diverso Dai che ho messo la mascherina Ah giusto Usate sempre le protezioni i bambini Esatto Me la tocco tutta No Non usate le magliette come mascherine E non usate le mascherine come magliette Soprattutto Vabbè Saluta la camera Ciao camera Vabbè Allora ok 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 ok